La città di Gianlu Morandi credo che sia stato centrale il fatto che io sia nato il 16 luglio e lui essendo una persona che segue la filosofia della numerologia e il 16 è il suo numero fortunato quando gli è arrivato il copione lui ha cercato su google il mio nome, ha visto che sono nato il 16 e ha chiesto di incontrare